Cristina, seconda classificata, ha vinto la Gioventù oggi? Per fortuna e finalmente, perché veramente era da un po' che non abbiamo visto delle promesse giovani e sono proprio contenta. La tua gara invece? Regolare, senza grossi errori, non solo allenata per una gara sprint, per quello sono più che contenta. Il tracciato come hai trovato il percorso? Era particolare, perché tantissimi punti molto corti, bisognava sempre stare attenti a non saltare un punto. Qualche recriminazione per non aver vinto? No, sono contenta di come è andata. Adesso la Midler, con che ambizioni? Fare una gara bella, poter avere la stessa soddisfazione personale domani, vediamo, quello che viene fuori viene fuori. Perfetto. Grazie. Grazie. Grazie.